Il progetto potrebbe proseguire fino a maggio per recuperare le occasioni perdute a causa della pandemia e intanto c'è un app in arrivo per rendere ancora più suggestiva la visita della Sala degli Spadai al Museo Fulcis di Belluno. Si è parlato di questo e molto altro a Innsbruck nell'incontro dei partner del progetto Interreg Clang. La visita, spiega Marta Azzalini, referente del Circolo Cultura e Stampa, è stata foriera di nuove scoperte. Sembra infatti che tra le collezioni di armi custodite nel castello di Ambras a Innsbruck ci siano anche spade di fattura bellunese. C'è stato anche il tempo per fare un punto della situazione sulle azioni previste nei territori coinvolti. Il comune di Santa Giustina per esempio è a uno stadio avanzato del progetto per la riqualificazione delle antiche erogge. Per Santa Giustina è un'importante opportunità che mette in rete la nostra storia, le nostre risorse naturali e paesaggistiche per portare dopo lunghi anni a conoscenza del nostro pubblico ma del pubblico in generale italiano e anche estero questa risorsa che sono le nostre rogge di acqua che facevano partire mulini, opifici, magli e spade. Il tema è che con questo Interreg siamo venuti in Austria per trovare e incontrare i nostri partner. Un progetto Interreg di sicuro successo che porterà anche a nuovi legami. A Belluno invece è stata aperta la sala degli spadai al Fulcis dove trova posto la mostra documentaria aperta fino a fine anno e come detto arriverà un'app dedicata alla visita.